San Wolfango si scende! 10 minuti di sosta per la colazione! Signore e signori siamo qui giunti nel cuore del Salzkammergut sul lago di Wolfgang, the Pearl of Austria. Alla vostra destra il famoso albergo al Cavallino Bianco. Benvenuti al Cavallino signori, io sono Gioseffa la proprietaria dell'albergo, è un posto calmo, tranquillo, riposante, adatto per malati di nervi, qui non succede mai nulla di speciale. Leopoldo sono arrivati quelli dei cosiddetti viaggi di piacere! Leopoldo è mio marito, è tanto caro, affettuoso, mi vuole un bene. Era il mio primo cameriere, volete che vi racconti come sono andate le cose? Volentieri! Dunque, Leopoldo era cotto di me, mi guardava con occhi da vitellino da latte, non smetteva mai di farmi dichiarazioni d'amore.